Ciao bene, entriamo nel mondo di Chat Roulette, il sito web che, in maniera casuale, mette in contatto sconosciuti di tutto il mondo attraverso video chat. I visitatori del sito quindi iniziano a chattare con altri visitatori e possono in ogni momento interrompere quella conversazione e iniziarne un'altra con un altro visitatore a caso. Il tipo di conversazione comprende audio, video e testo, a seconda della scelta di ogni partecipante. Su Chat Roulette l'argomento principale è naturalmente il sesso. I ragazzi ci vanno per flirtare, ma perché no, anche per farsi due risate. È il caso di questi simpatici amici. Can I see your boobs? No! Sono una basiliana! Mamma mia! Sono scherzato! If you show your boobs, I show my boobs! My f***ing asshole! Il tuo strozzo? No! Lettente per il sedere! No! No, complete! Que word! Eh, lo scatate, lo scatate! Terese sta facendo vedere quals'altro! One number phone, please! Sì, il numero del phone! Eman! Abbiamo già il numero di telefono! Facebook contact! È scattato però! Facebook contact! No! Mortal Kombat! Mortal Kombat! Mortal Kombat! Mortal Kombat! Mortal Kombat! Lance, guina a s*****! Lace, it's a beautiful name! But, but, you are a single! He's from Brazil! Oh, I love Brazil! È un po' lungo, è un po' lungo, è un po' lungo, è un po' lungo! Sì, parlate di o no! Oh, che è vero! Ti ha enamorato, lui! Ma stai in c***o! Ti amo! Sedele! Ci spostiamo! Eh... Oh, no! Allora, cantiamo una canzone d'amore! Vai con la canzone! Canzone d'amore! Ok, forse è meglio, forse è meglio, vai! Vale! Fai in Brasile, questo! Che in c***o a Brasile, i nostri bambini andranno, scuetteranno tutto l'anno per te! Ma che ci faccio un s*****o con lei? Che ci va? Io sempre! Che ci va! Ciao ragazzi! Ciao!